Musica Ci troviamo al Salone Margherita dove solo per tre giorni dal 18 al 20 marzo c'è questo meraviglioso spettacolo con Edoardo Vianello e Vilma Goic, ovvero i Vianella che sono stati un mito e sono tuttora un mito per la canzone italiana e il titolo di questo spettacolo è C'eravamo Tanto Amati che somiglia un po' a ricordare il film di Ettore Scola che è lo stesso poi titolo del film del 77 perché avete scelto questo titolo? Intanto ci terrei a precisare che non ho copiato dal film ma anche il film ha copiato dallo stesso punto che è il titolo di una canzone no il titolo è il contenuto di una canzone famosa degli anni 20-30 che era Come Pioveva C'eravamo Tanto Amati e quindi insomma ci eravamo Tanto Amati perché siamo stati una coppia nella vita e quindi siamo stati insieme perché ci amavamo Certo e perché come è avvenuto questo ritorno questa riunione dopo tanti anni? E' avvenuta perché casualmente abbiamo cantato una sera insieme e ci siamo accorti che la reazione del pubblico era fantastica e quindi abbiamo detto oh perché dobbiamo tenere nascosta questa occasione e allora abbiamo montato questo spettacolo che abbiamo già presentato lo scorso anno adesso siamo questi tre giorni a Salone Margherita e poi andremo in giro Ecco è diventato ovviamente lavoro, impegno e attenzione Poi questo spettacolo è un po' particolare perché come tu mi hai detto in un'altra intervista praticamente pensano le persone che vengono che è un concerto invece voi fate un racconto aneddoti varie qual è quello più divertente? Beh Sono tanti forse Sì sono tanti c'è una sorta di autoironia in tutto quello che raccontiamo è un'ironia molto sottile per cui non sempre arriva ma io dico sempre io faccio le cose per le persone intelligenti comunque quello che non arriva passa per una cosa normale quindi non è che io aspetto una risata io faccio un racconto dove dentro ci sono delle battute delle ironie chi ne capisce bene chi non ne capisce sente una storia vera E certo Diciamo che la canzone più famosa dei Vianella è stata Essimo Gente De Borgata però successivamente poi qual è stata la canzone diciamo seconda tra virgolette quella più ascoltata quella che ti ricordi con più piacere? Beh ce ne sono diverse per fortuna c'è Tu padre con tu madre che è una canzone che è molto divertente poi Fio mio che è una canzone che hanno scritto per noi Franco Califano e Amedeo Minghi in occasione della nascita di nostra figlia e poi c'è Canto d'amore di Omeide che fa parte di una favola musicale che noi abbiamo realizzato e con la quale siamo arrivati tra l'altro terzi a Canzonissima e quindi e poi tante altre insomma la gente che ci ha seguito ne conosce diverse adesso che so fare l'elenco ma voi canterete cioè tu canterai come anche Vilma anche le canzoni che tu hai fatto ovviamente da solo oppure solamente le canzoni di Vianella cioè faremo un tuffo nel passato negli anni sessanta tipo la Tremarella i balli del Twist oppure solamente le canzoni di Vianella ma lo sai che tu vuoi sapere troppe cose? è uno spettacolo da vedere e poi dentro ci sarà tutto tra l'altro c'è anche una sorpresa di un coro che abbiamo fatto che si chiama Il Corredo che apparirà dal nulla è molto divertente quello che faremo benissimo allora diamo gli appuntamenti intanto dal 18 al 20 marzo qui a Salone Margherita di Roma e poi e poi in giro quando vedete i nostri manifesti strappateli ma veniteci a sentire e poi in giro senti per concludere a cappella una canzone così proprio un accenno così ci salutiamo salutiamo i televisori di Visum TV abbronzatissima e con questo è tutto Edoardo Vianello Giancarlo Leone e Visum TV